Signor Pavano, so che lei ha fatto una denuncia. Una denuncia per che cosa? Per il degrado totale che è il quartiere Arcella, via Tiziano Aspetti e l'Ibitrofi. Questa situazione la conosce benissimo sia il sindaco, sia assessori, non assessori. Io ho parlato con assessori, ho parlato anche con dei dirigenti che prendono 96.000 euro all'anno di stipendio che non fanno niente. E per me, per il mio locale, per la mia posizione, per i miei investimenti, mi hanno messo non un centro culturale, ma mi hanno messo una moschea. Che danno mi porta a me la moschea? Non abbiamo parcheggi per nessuno. Poi la gente, per carità, ognuno ha la sua religione, ma quando si vede questa gente con la barba, con questi traversoni bianchi che non vengono neanche più dentro nel mio negozio. Quindi io devo difendere il mio negozio e devo difendere il mio lavoro, i miei investimenti, i fatti. Dopodiché, tutto il resto, spacciatori, non spacciatori, io posso solo ringraziare la questura, non posso ringraziare la polizia locale, oppure l'assessore alla sicurezza, che tuttora oggi non abbiamo un comandante da poter rivolgersi direttamente al comandante per vedere che se si può realizzare qualcosa. Tutto questo, dopo sei mesi, abbiamo una situazione di questo tipo. Io posso dire solo che abbiamo una situazione molto, ma molto precaria. Grazie.